Buongiorno. L'Accademia delle Scienze ha organizzato una serie di colloqui, di interventi sul tema dell'Europa e i diritti fondamentali. Il nesso tra Europa e diritti fondamentali è storicamente e politicamente attualmente evidentissimo. L'origine dell'idea stessa di diritti della persona che si impongono alla sovranità degli stati, la cui origine filosofica, morale, storica è molto discussa, è in Europa. In Europa o più ampiamente nell'Occidente, per ricomprendere anche gli Stati Uniti d'America, che hanno avuto un'importanza fondamentale. Quindi parlare di Europa, a parte l'attualità generale del tema per noi, ma in connessione con i diritti fondamentali è evidente e facile. Perché in un momento fondamentale nella storia dell'Occidente, parlo del fine del Settecento, negli Stati Uniti e nella Francia rivoluzionaria, per la prima volta come atti di parlamenti, si dichiarò solennemente come fosse una verità, affermando che si trattava di una verità in sé evidente, che tutti gli uomini nascono liberi e uguali nei diritti. Era la fine dell'Ancien Regime per quel che riguarda l'Europa. Dietro naturalmente c'era una lunga preparazione. L'illuminismo aveva preparato il terreno. Le dichiarazioni, questa americana e quella dell'agosto del 1789 in Francia, contengono un elenco di diritti e libertà e un elenco che poi nel tempo non ha fatto altro che allungarsi. Ancora recentemente avremo un intervento del professor Pitea nel nostro organizzato dall'Accademia proprio sull'ambiente. Recentemente il nesso tra tutela dell'ambiente e riconoscimento del diritto delle persone è la prova di quanto l'elenco dei diritti ritenuti fondamentali sia destinato nella storia ad allungarsi e a modificarsi. Ora, qual è la discussione sulla base giuridica e il fondamento filosofico di questa pretesa che vi siano dei diritti fondamentali a che appartengono alla persona in quanto tale e non vengono concessi dagli stati sovrani, ma si impongono agli stati. L'origine è oggetto di discussioni infinite, discussioni che in qualche modo Jefferson, l'autore della dichiarazione americana, scrisse che si trattava di verità self-evident, auto-evidente di per sé. Era un modo per sfuggire al tema, per affermare che questi diritti si imponevano agli stati, ma non dire, non affrontare il tema da dove vengono questi diritti. Non solo, ma passando a tempi più recenti a noi, Norberto Bobbio, che ha dedicato molti studi a questo tema, alla fine aveva concluso che forse era il momento di acquietarsi, di non chiedersi più da dove vengono questi diritti fondamentali e preoccuparsi invece di garantirle efficacemente. Occuparsi di vedere che dalla proclamazione alla realtà sul terreno non ci fosse troppo scarto, come attualmente ancora c'è. L'intonazione delle carte della fine del Settecento, sia quella francese che quella americana, più di quelle precedenti del secolo precedente inglese, hanno un respiro, una pretesa e un respiro universalistico. Tuttavia, in realtà, quelle dichiarazioni di diritti erano destinate a diventare operative all'interno degli stati in cui la dichiarazione avveniva. Così il Parlamento francese o degli Stati Uniti, degli Stati degli Stati Uniti, le magistrature di quegli stati erano destinati a occuparsi di proteggere quei diritti. Non vi era un meccanismo che garantisse sul piano della effettività giuridica la pretesa di universalità. Era un fatto nazionale. E lo si vede benissimo nella dichiarazione francese, in cui da un lato si afferma che in linea generale ogni società, l'articolo 16 della dichiarazione, ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione. Questo è il respiro universale. Però poi alla fine erano i giudici della Repubblica, ad un certo punto, francese, destinata a garantirli. Ora, l'importanza di questi aspetti dichiarati nella carta francese è che si mette insieme, da un lato, l'elenco dei diritti fondamentali che appartengono alla persona in quanto tale, eccetera, e anche la preoccupazione di garantire che la struttura statale destinata ad assicurare quei diritti sia adeguata. E quindi separazione dei poteri, diritto di ricorrere a un giudice, indipendenza dei giudici. In una parola, lo Stato di diritto. Vorrei sottolineare con una brevissima parentesi che l'importanza di quella dichiarazione di fine Settecento, che poi diventa la pretesa di Stato di diritto in tutta Europa, certamente, ma diciamo più largamente nell'Occidente, naturalmente, la pretesa di Stato di diritto è di un'importanza attuale enorme. La tensione all'interno dell'Unione Europea attorno a certe riforme in senso regressivo, in Polonia, in Ungheria, ad esempio, principalmente in questi due paesi, è la prova di come sia sempre oggetto di tensione questo tema. Ora, dicevo, aspirazione di universalità, pretesa di universalità quando nel 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Nel titolo stesso c'è la indicazione che si tratta di una dichiarazione universale. In realtà, noi sappiamo che attualmente, e non da ieri, vi sono nell'ambito globale, all'interno delle Nazioni Unite e fuori di essa, delle forti contestazioni. Così abbiamo una carta araba dei diritti fondamentali. Abbiamo in Asia la pretesa dell'esistenza, la dichiarazione, dell'esistenza di valori asiatici alternativi a quelli dichiarati nella dichiarazione del 1948. E vi è contestazione anche in Europa. Quando la Polonia e l'Ungheria contestano indicazioni che vengono dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea o da documenti vari del diritto dell'Unione, non negano che si stanno ponendo in contraddizione. Rivendicano il diritto di essere diversi, spesso su base di principi religiosi. Ebbene, ma questa è la realtà attuale, politica, della contestazione. Ma fin dal 1947, durante i lavori che porteranno poi alla dichiarazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Associazione Americana di Antropologia aveva contestato, aveva detto facciamo attenzione a dichiarare l'universalità perché questi valori non sono universali, appartengono certamente all'Occidente. Questo discorso dell'universalità ha poi una conseguenza pratica e anche concettuale nella materia dei diritti fondamentali. Mi riferisco al fatto che proprio, parlavo prima del 1948, nell'immediato secondo dopoguerra, sulla base della dichiarazione delle Nazioni Unite parte l'operazione politica, ma anche concettuale e filosofica, che assegna non più agli Stati l'obbligo di riconoscere i diritti fondamentali, all'interno della logica del dominio riservato, degli affari interni su cui gli altri Stati non avrebbero diritto di interferenza, ma la logica della responsabilità della comunità internazionale di garantire i diritti fondamentali, anche intervenendo negli affari interni degli Stati. Tensione enorme tuttora, dichiarazioni in questo senso sul piano giuridico, ma ad esempio la Cina non riconosce questo principio, la federazione russa idem, volta per volta ci sono contestazioni. Quindi è una dichiarazione che a sua volta è oggetto di una prospettiva da realizzare, sempre che lo si voglia fare, ma non una realtà. E d'altra parte che la universalità di questi diritti era già contestabile all'inizio. Jefferson, l'autore della dichiarazione americana, era un proprietario di schiavi. La schiavitù è stata mantenuta a lungo, anche in Francia. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo limitatamente comprendeva i diritti delle donne, ad esempio sul piano elettorale, di diritti politici. Quindi quelle dichiarazioni non descrivevano una realtà attuale, ma presentavano una tendenza, descrivevano i tratti fondamentali di come voleva essere una civiltà, la civiltà dell'Occidente in particolare. Sono potenti manifesti politici, culturali, etici, indicano una via da percorrere. Fino a quando in Europa, la parte occidentale dell'Europa prima e poi dagli anni 90 in poi, col crollo del sistema sovietico tutta l'Europa, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, che era una pura dichiarazione politica, diventa un atto giuridico perché con la Convenzione dei diritti europea, dei diritti e delle libertà fondamentali, si istituisce un controllo giudiziario. La Corte europea, la Corte di Strasburgo, che giudica gli stati sulla base di ricorsi presentati da individui. Nel momento in cui si mette in piedi questo sistema, ecco che la proclamazione di diritti di natura politica etica diventa proclamazione di diritti giuridicamente protetti. Almeno in questa parte del mondo l'Europa, tanto più all'interno della grande Europa, alla parte che è l'Unione Europea, sia pure con tensioni, ho ricordato quelle che sono presenti tuttora e gravissime per certi aspetti tra Polonia e Ungheria e forse non solo nei confronti del sistema dell'Unione Europea, sia pure all'interno di queste tensioni, che per il fatto solo che esistono come tensioni significa che il tema è presente, ebbene, almeno in Europa, il passo avanti che è stato fatto nel dopoguerra, riconoscendo che c'è una comunità internazionale capace di proteggere questi diritti degli individui, la realtà di quelle dichiarazioni è diventata molto più reale, molto più praticabile, di quanto non fosse all'epoca di quelle dichiarazioni. Ora, in questo quadro, quando ci occupiamo dei diritti fondamentali, nel momento in cui l'Accademia delle Scienze ha messo in piedi l'organizzazione di questa serie di interventi, evidentemente i temi da affrontare si sono manifestati infiniti, infiniti i temi che rientrano sotto il cappello dei diritti fondamentali. La scelta che è stata fatta, con la disponibilità dei professori che prenderanno parte, che interverranno in questa serie di incontri, la scelta che è stata fatta mette in mostra due temi, due atteggiamenti, diciamo così. Da un lato temi generalissimi, fondanti del discorso sui diritti fondamentali, e poi altri che sono invece legati all'attualità, perché sono temi conflittuali, temi che sono sotto l'occhio dell'opinione pubblica. E allora abbiamo il professor Massimo Salvadori, che in apertura parlerà dell'origine dei diritti di libertà, non è sempre nel momento in cui si parla dei diritti fondamentali, diritti e libertà fondamentali. I diritti sono cosa diversa dalle libertà, quando storicamente sono anche non sempre appaiati nello sviluppo. Quindi si occuperà dell'origine dei diritti di libertà. Poi il professor Luigi Bonanate vedrà la parte internazionale della protezione dei diritti umani, i doveri degli stati su questo piano. Abbiamo poi un tema che è molto delicato, affrontato dalla professoressa Loredana Schovo, la quale parlerà dei diritti umani e delle comunità di appartenenza. Normalmente i diritti vengono declinati come individuandone il titolare nelle persone individuali. In realtà le persone individuali stanno sempre in un ambiente collettivo, più o meno ampio, e il gioco tra i diritti e le relazioni tra individuo e collettività è complesso ed è fondamentale. E poi veniamo a tre interventi su temi specifici di grande attualità. Il professor Vittorio Manes, penalista, parlerà del principio di legalità nella materia penale e l'ecoprocesso. Le polemiche anche politiche attuali sono sotto l'occhio di tutti. Il professor Grazia Dei parlerà del diritto alla salute e non c'è da aggiungere nulla sulla attualità. E infine il professor Cesare Pitea dell'Università Statale di Milano parlerà dei diritti umani e ambiente. È molto importante, credo che sia utile, aver fatto questa scelta perché dimostra come l'evoluzione della sensibilità, l'evoluzione della realtà, indichi come il rispetto dei diritti delle persone si atteggi diversamente a seconda di come la realtà poi si modifica. Soltanto 20 o 30 anni fa parlare di ambiente collegato ai diritti umani sarebbe stato sentito come un ford'opera. Oggi è evidentemente uno dei temi più importanti e urgenti. E con questo, augurando buon ascolto delle varie occasioni di intervento che il programma dell'Accademia delle Scienze mette in campo, saluto.